Dalla croce sgorga un amore indicibile. Gesù è venuto per salvare, non per condannare. La riflessione del Vescovo a Sestri Levante si è soffermata sul Santo Cristo, custodito nella chiesa di Santa Maria di Nazareth. Monsignor Tanasini ha invitato la comunità a guardare il crocifisso per ritrovare quello stimolo di annunciare il Vangelo oggi, in una società dove sembra prevalere una certa superficialità della fede, soprattutto di fronte alle prove della vita. Il Vescovo ha invitato a non lamentarsi di sofferenze e delusioni, ma di posare lo sguardo sulla croce per essere salvati. La croce è diventata la strada dell'amore. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, perché chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna. È questo mistero di amore che è chiuso, racchiuso nella croce. E se noi siamo capaci di scoprire questo mistero di amore che salva, allora troviamo il senso della nostra vita, del nostro cammino. La presenza del Santo Cristo aiuta la popolazione di Sesti Levante a sentire di incontrare Dio, ha spiegato il parroco. È un segno che testimonia l'identità della parrocchia. In estate, con l'apertura serale della chiesa, il crocifisso è stato un riferimento forte anche per numerosi turisti. È stata un'esperienza impegnativa ma anche che ci ha dato soddisfazione. Abbiamo avuto degli ascolti importanti. Con la chiesa aperta ha tratto un via vai di persone che passando sulla piazza entravano in chiesa per un momento di preghiera e anche per vedere le opere d'arte che ci sono nella nostra chiesa. Cercheremo certamente di portare avanti anche nei prossimi anni questa iniziativa. In occasione della festa, la comunità ha celebrato i 25 anni di servizio del sacrista della Basilica, Alberto Fazzeri. Di fronte al Vescovo ha rinnovato il suo impegno di cura della chiesa e di aiuto nella liturgia.